Come un fiume in piena, lo scandalo che sta mettendo in crisi i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Vecchio Continente esonda in veste equilibri e solide alleanze. La nuova linfa arriva dal sito Criptom, altra fonte di rapporti riservati e informazioni che avrebbero dovuto rimanere segrete. Così in un mese, a cavallo tra il 2012 e il 2013, l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense avrebbe spiato qualcosa come 125 miliardi di telefonate in tutto il mondo. Solo in Italia le conversazioni carpite dall'intelligence a stelle e strisce sarebbero state in quel periodo 46 milioni, 60 milioni in Spagna, 70 in Francia, ben 361 milioni in Germania. Numeri in linea con altre rivelazioni che arrivano dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha raggiunto un accordo con il giornalista Grinwald per avere accesso ai documenti di Edward Snowden che riguardano direttamente la Spagna e che promettono nuove e inquietanti rivelazioni. Ma è soprattutto la qualità delle conversazioni spiate a tenere alta la tensione diplomatica. L'attività di controllo sulle telefonate di Angela Merkel continua a essere terreno di scontro tra Berlino e Washington. Così mentre la NSA, che secondo il Wall Street Journal avrebbe interrotto lo spionaggio di 35 leader mondiali, cerca di scagionare il presidente degli Stati Uniti spiegando che Obama non sapeva nulla sulla Merkel. Da Berlino ribadiscono che, al contrario, Obama era stato informato dal 2010, aveva approvato e chiesto addirittura un rapporto più esauriente possibile sulla cancelliera tedesca. Il ministro dell'interno tedesco ha ammonito la Casa Bianca spiegando che lo spionaggio di un paese amico in Germania è un reato, mentre a Washington è arrivata una delegazione formata da nove componenti del Parlamento europeo, giunta negli Stati Uniti per chiedere spiegazioni alle autorità statunitensi circa i presunti abusi della loro intelligence. Una missione in programma da tempo che il capo della NSA, Keith Alexander, ha lasciato fuori della porta rifiutandosi di incontrarla.